Curare la pulizia, l'igiene personale, penso soprattutto a lavarsi le mani, ad evitare di dover rimanere in luoghi chiusi e affollati e stiamo avanzando al governo nazionale alcune precise richieste. Noi siamo convinti che bisogna accentuare i controlli sulle persone che arrivano in Sicilia col treno, con l'aereo e con le navi. Non mi pare che questo servizio sia stato finora effettuato in maniera accurata, può anche non servire per carità ma non dobbiamo tralasciare assolutamente nulla. E poi le misure da adottare per le imprese che inevitabilmente subiranno dei danni. Quale misura pensa di approntare il governo nazionale? Domani parteciperò alla seduta dell'unità di crisi col Consiglio dei Ministri per dare queste risposte assieme a tante altre risposte che attendono i sindaci della Sicilia. Ne abbiamo parlato con l'assessore Razza e con il sindaco Orlando in quanto presidente dell'Anci proprio perché vorremmo che il linguaggio, la strategia, i comportamenti possano essere coerenti e omogenei. Evitiamo fughe in avanti, evitiamo sciocchi protagonismi. È un momento difficile ma non dobbiamo assolutamente avere paura che è e rimane il nostro peggiore nemico.